E mentre le nostre Miss si schierano, un grazie agli amici del Bar Savo per l'ospitalità e la gentilezza che hanno avuto nei confronti di Miss Italia. Un grazie a Augusto, proprietario e titolare del Savo, che è un gran signore e un grazie a tutto il suo staff. Un grazie a tutti. Io vorrei un applauso a tutte le ragazze per cortesia perché ancora adesso sono felici e contente. Tra qualche momento qualcuna di loro sarà un po' meno, ahimè. Però le ragazze devono sempre ricordarsi che non finisce questa scena, che è già martedì pronto. Il 2 agosto siamo a Ventimiglia con un'altra finale regionale. E allora andiamo con la concorrente numero 2, numero 1 per il perdetto finale. Voto definitivo per Gaia Di Martino. Voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. La giuria deve dare voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere per la concorrente numero 1. Votate, grazie. Grazie, Gaia. Concorrente numero 2, Ilaria Baccellini. Pensiamo alla concorrente numero 2 e anche per lei la giuria deve darvi il voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. Grazie, Gaia. Voto definitivo anche per la concorrente numero 3, Jessica Minuzzi. Siamo alla concorrente numero 3 e anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. Votate, grazie. Grazie, Jessica. Andiamo avanti con la concorrente numero 4, Sara Canepa. Voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere per la concorrente numero 4. La giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere per la concorrente numero 4. Votate, grazie. La giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. Votate, grazie. La giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. Buonanotte, grazie. Grazie, Elena. E continuiamo con la concorrente numero 7. Voto definitivo anche per Camilla Franceschini. Concorrente numero 7. La giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere per la concorrente numero 8. La giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. Grazie, Marzia. Andiamo avanti con la concorrente numero 10. Alessandra Boglioni. Voto definitivo per la concorrente con numero 10. Sempre da 1 a 5 in cifra in lettere. La giuria sta votando la concorrente numero 10. Grazie, Alessandra. Concorrente numero 11. Voto definitivo anche per Chiara Borfiga. Concorrente numero 12. Voto definitivo per la concorrente numero 12. Alessandra Ferrini. Anche per la concorrente numero 12. Voto ci permette da 1 a 5. Grazie, Alessandra. Concorrente numero 13. Federica Aliberti. Per lei voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. Grazie, Federica. Grazie, Federica. Procediamo con la concorrente numero 14. Alice Andreoli. Andrioli. Voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. Per la concorrente numero 14. Alice Andreoli. Concorrente numero 15. Miriam Profino. Grazie, Miriam. Concorrente numero 16. Giulia Bingolla. Voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. C'è la concorrente numero 16. Giulia Bingolla. Grazie, Giulia. E proseguiamo con la concorrente numero 17. Valentina Canevelli. Per lei voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. Grazie. Grazie, Valentina. Andiamo avanti con la concorrente numero 18. Adriana Turecciotto. Voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. Per la concorrente numero 18. Adriana Turecciotto. Concorrente numero 19. Eleonora Barsotti. Voto definitivo anche per la concorrente numero 19. Marzia Cavalli. Grazie, Donora. Concorrente numero 20. Marzia Cavalli. Cento in cifra in lettere. Grazie, Marzia. E continuiamo con la concorrente numero 21. Voto definitivo anche per Roberta. Concorrente numero 21. Concorrente numero 21. Grazie, Roberta. Concorrente numero 22. Giulia Borio. Voto definitivo. Voto definitivo per la concorrente numero 22. Giulia Borio. Naturalmente sembra da 1 a 5 in cifra in lettere. Grazie, Giulia. E continuiamo con la concorrente numero 23. Voto definitivo anche per Susanna Mussi. Voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. Grazie, Susanna. Grazie. E allora, io vorrei un applauso nel pubblico e alle ragazze per proteggere. Grazie. Adesso, Sabrina, sicuramente mi raggiungi giù. Mi controlli. Sì, arrivo. Le sfide dei giurati. Intanto io, Alberto, sicuramente mi fai la foto di gruppo con tutte le ragazze adesso. Ragazze bene?